Castiglione Fiorentino, maurardente parrucchiare da oltre 50 anni, ha deciso che per lui non ci sarà una fase 2, non riaprirà le porte del suo locale nemmeno il primo giugno, anzi ha deciso che regalerà questa attività. Perché ha deciso di non riaprire? Perché questo è un problema, un problema di riaprire con tutte le precauzioni che bisogna prendere. Vabbè, sono importanti per noi e per i clienti, ma non me la sento, 50 anni che faccio questo mestiere non me la sento anche perché mi manca di conseguenza il rapporto con il cliente, non c'è libertà, il rapporto freddo diventa, avviene il cliente e si fa il servizio e va via. A me piaceva stare con il cliente a parlare, si tratteneva dopo il servizio, venivano un pochino prima e così. Comunque, appunto... Parati, però non chiudo questa attività, che resti, insomma, ha deciso di regalarla lei? Se c'è qualcuno che la vuole, io sono disponibilissimo veramente a regalarla perché è un'attività, è un ambiente grandissimo, non ci sono problemi neanche di metratura, qui si può anche fare due clienti per volta. Niente, c'è un minimo di... un po' di utenza c'è, se un giovane avesse voglia può venire tranquillamente, gli do le chiavi, le chiavi sono qui e inizia, se c'è la possibilità di prendere la partita IVA, tranquillamente, insomma, ecco. Perché mi dispiace vedere la mia attività che ho curato con... Ecco, l'ho creata io, insomma, fin da... da sempre, insomma, e lasciarla vedere chiusa, insomma, un po' mi dispiace. È stata sofferta questa decisione, però purtroppo è così. L'ipotesi per il futuro di questo settore, se ne sono fatte tante delle varie misure che potrebbero essere prese, come potrebbe essere il lavoro del parrucchiere dopo il primo giugno? Ma io, ora, se si guardano le televisioni nazionali, che c'è quella, una ora senza fanno nomi, ma insomma è che fanno vedere delle cose anche esagerate. Secondo me si lavora bene, tranquillamente, insomma, con una mascherina, con una visiera, con guanti, cioè, grossi problemi non ci sono. Al lavaggio stiamo di spalle al cliente. È vero, è il nostro lavoro che a distanza sociale non si può mantenere perché si lavora addosso, ma con i guanti. Siamo sempre quasi sempre di spalle al cliente, quindi grossi problemi non credo che ci siano, non so, ecco, soltanto diciamo, allora, perché smetti? Io non me la sento, poi mi sono abituato a stare a casa, ho altri hobby, grazie a questo lavoro ho tanti hobby, tante passioni, tante attività sociali. E anche lanciare un appello, ormai sono due mesi che i parrucchiali sono chiusi, ci resteremo inevitabilmente un altro mese, ma il suo appello è contro l'abusivismo. È un rischio, insomma, reale oggi? Io sono da sempre stato col sindacato, con un'associazione, la CNA, e si è sempre lottato l'abusivismo, ma in questo momento ancora di più, perché? Perché purtroppo la gente, sono due mesi che non si fa i capelli, ha bisogno, e ha bisogno, ma io chiedo agli utenti di non andare alle case a farsi o chiamare i parrucchiali a casa, perché lì veramente c'è il rischio, che non ci sono, oltre al danno economico, però c'è proprio, la sicurezza lì è zero, insomma, ecco. Quindi non affidatevi e aspettate, abbiate pazienza fino a giugno, che ne riapri il vostro parrucchiere e andate lì, fatevi il colore da solo, fatevi fare una pulitina al collo dalla moglie e dal marito, ma non andate dall'abusivismo. Grazie Chiara, sposiamo l'appello.